Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso che cari amici pellegrini fate quando venite qui a San Giovanni Rotondo, andate verso il coro della chiesetta antica. Oggi è qui per raccontarvi quanto era doloroso per la provincia religiosa la permanenza di Padre Pio in famiglia. Ecco, questo prolungato soggiorno di Padre Pio nella sua pietrecina fuori dalla fraternità religiosa preoccupava tantissimo i superiori che trovarono delle difficoltà a conciliare questo fatto con le regole dell'ordine, anche se erano consapevoli che tutti i diversi tentativi di rientro erano falliti, sempre per motivi oggettivi di salute. Il problema venne risolto con l'aiuto di Dio e con l'aiuto di una donna molto malata che chiedeva una visita a Padre Pio da tanto tempo e la chiese poi quasi alla fine prima di morire. Raffaelina Cerase era una donna terziaria di Foggia, che abitava proprio accanto al convento dei frati minori Cappuccini di Foggia. Nell'epistolario numero 2 i curatori dell'epistolario hanno fatto un lavoro eccezionale, sia Padre Melchiorre da Pobladura e Padre Alessandro da Ripa a Bottoni, perché hanno un po' ricostruito questa storia di come Padre Pio si ritrovi in questo convento. Infatti dividono l'epistolario in tre parti. La terza fase è quello dedicato all'incontro personale dei due protagonisti, un incontro che chiede a viva voce Donna Raffaelina già, pensate un po', dal 1914. Manifestava ripetutamente il desiderio di volersi confessare da Padre Pio, sicura che ciò sarebbe stata una spinta a correre più velocemente per le vie del Signore. Questa anima che sentiva sempre più difficoltà e quindi aveva bisogno della presenza di Padre Pio, che aveva con lui una stretta corrispondenza epistolare. Poi ancora nel febbraio del 1915, quindi un anno prima le scrive, vi aspettiamo a maggio qui a Foggia. Giunto maggio, Padre Pio non arrivò, Raffaelina ancora si appellava dicendo se voi, un miracolo soltanto lo potrebbe, vi fissaste nel convento di Foggia, chissà che questa figlia indegna, perversa e grande peccatrice non divenisse una santa. Era il 20 maggio che gli scriveva questa lettera Raffaelina a Padre Pio. Ancora nel settembre del 1915 vorrei avere la fortuna di avvicinarci e potere così stare accanto a voi nel confessionale. E ancora, ci rivedremo a Foggia, scrive Padre Pio, e lì salderemo tutti i conti. Siamo nel settembre del 1915 e ancora nel dicembre di quello stesso anno. È Padre Agostino che poi le palesa, io lo condurro costà, ad ogni modo, quando sarà venuto voi cercherete di farlo rimanere anche fino alla morte. A Foggia. L'avverte che contemporaneamente Padre Agostino scriveva anche a Padre Pio, senza però accennarli minimamente di questo progetto. Un tranello, potremmo dire proprio così, un tranello degli uomini, ma con la benedizione di Dio. È questa donna, Raffaelina Cerase, che si offre vittima per Padre Pio. E Padre Pio finalmente, tra qualche giorno accadrà, tornerà in convento e vi resterà per sempre.